Nome. Gennady Mishasevic. Soprannome. Lo strangolatore di Vitebsk. Numero vittime. 38 accertate. Modus operandi. Strangolamento, stupro. Gennady Mishasevic nasce il 7 aprile 1947 in Bielorussia. Il 14 maggio 1971, dopo aver prestato servizio nell'esercito, Modestovic compì, all'età di 24 anni, il suo primo omicidio. Il fattore scatenante fu la scoperta del matrimonio della sua ex ragazza con un altro uomo, poco dopo aver lasciato Modestovic. Da quel momento in poi, nutrì un tale risentimento verso le donne, che lo indusse a diventare omicida seriale. Modestovic quella sera di maggio si trovava a Vitebsk, nella Bielorussia orientale, doveva prendere l'autobus per Polotsk, dove abitavano i suoi genitori. Era talmente triste che voleva trovare un luogo adatto per impiccarsi, quando, per la strada, incontrò casualmente una donna, Livud Mila Andaralova. La stuprò e la strangolò a mani nude. Il corpo venne trovato a 48 metri dalla strada sterrata, nei pressi di un campo di alberi di mele. Sulla faccia, sulla schiena e sulle gambe c'erano presenti delle abrasioni. Il 29 ottobre 1971 fu protagonista di un tentato omicidio. Si avvicinò a una donna e, mentre le chiedeva l'ora, le mise una corda al collo. Lei la bloccò, ma Modestovic le tappò il naso e la bocca con l'altra mano ma non riuscì a soffocarla perché le sue urla avevano attirato degli studenti, che lo individuarono e lo fecero fuggire. Il giorno dopo, il 30 ottobre 1971, uccise per la seconda volta. Il cadavere della donna venne trovato a 12 metri dalla strada sterrata, in un campo di abeti, appoggiato ad un tronco. La vittima era stata soffocata con una sciarpa infilata con forza in gola. Il 15 aprile e il 30 luglio 1972 strangolò altre due donne nei pressi della stazione alla periferia di Vitebsk. Nonostante tutto ciò, nel giugno 1973, Modestovic si laureò nella scuola tecnica di Vitebsk. La furia omicida però non si placò. Anzi. Aumentò esponenzialmente. Tornò a uccidere il 17 maggio 1975. Uccise la sua vittima più giovane. La soffocò in massacro con le forbici nella campagna di Poloteska. In generale, tutte le vittime erano donne che venivano stuprate e strangolate o con le mani nude o con mezzi improvvisati. Con una sciarpa, una corda, un laccio emostatico o la tracolla delle loro borse, una volta assassinate l'omicida le rapinava, borse e oggetti di valore. Poi nascondeva i corpi in luoghi isolati e li mimetizzava ricoprendoli con ramoscelli, terra, erba, foglie e moschio, la neve invernale avrebbe fatto il resto. Nell'aprile del 1976, si sposò ed ebbe due figli, un maschio e una femmina. Modestovic, non divenne mai un sospettato, appariva agli occhi degli altri come un premuroso padre di famiglia, sposato e con due figli, parzialmente astemio e non fumava mai, un semplice operaio metallurgico che lavorava in modo assiduo. Il 2 luglio del 1976, poco dopo il matrimonio, imbavagliò e soffocò sia con le maniche e con la tracolla di una borsa un'altra vittima. Nella notte tra il 24 e il 25 luglio 1976 ne violentò e strangolò un'altra ancora. Il 22 ottobre e il primo novembre 1976, altre due. Gli anni passavano e il numero delle vittime non si fermava e la polizia brancolava nel buio. Le indagini partirono solo nel 1980. Il giovane detective Nikolai Ivanovich Ignatovic era molto convinto che gli omicidi fossero opera di una sola persona, un serial killer. Il periodo più intenso fu quello tra il 1983 e il 1985. Morirono 12 donne. Una notte Modestovic, in preda ad un incubo, tentò, nel sonno, di strangolare anche sua moglie. Nel 1983 prelevò in macchina un autostoppista ventenne di Vitebsk. Lei sperimentò un approccio sessuale e lui accettò. La portò a Nevele, subito dopo che ebbe un'eiacolazione, la strangolò e ne nascose la salma in mezzo ai cespugli a faccia ingiuri coprendola di terra e foglie. La sera del 13 gennaio 1984 uccise una studentessa a due chilometri da Polotesca. Il suo corpo venne trovato il 2 febbraio 1984 nei pressi della ferrovia. Il 16 agosto 1985 lo strangolatore inviò una lettera anonima ai giornali locali. Aveva scritto che era un membro di un'immaginaria organizzazione e aveva il compito di uccidere, per vendetta, donne ritenute volgari e adultere. Lo stesso identico messaggio fu nuovamente lasciato nella bocca delle sue ultime due vittime, trovate rispettivamente il 27 ottobre e il 7 novembre 1985. Questo fu l'errore del serial killer. Le lettere erano scritte a mano, quindi gli agenti poterono eseguire una perizia calligrafica sui residenti di sesso maschile della regione. Dopo l'analisi di 556.000 campioni e 312.000 passaporti, fu finalmente trovato il presunto killer. La polizia poi trovò altre prove che lo incastrarono definitivamente. Venne arrestato il 9 dicembre 1985. L momento dell'arresto rimase impassibile. Durante il breve tragitto con la macchina, gli agenti di polizia dovettero fermarsi 15 volte poiché l'assassino doveva urinare. In centrale di polizia negò tutto. Ma alla fine confessò. Secondo la perizia psichiatrica, gli doveva essere riconosciuta la sanità mentale in quanto poteva essere responsabile delle sue azioni. Al processo venne trovato colpevole di un tentato omicidio e di 33 delitti e fu quindi condannato a morte tramite fucilazione. La sentenza fu eseguita nel 1987.